Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video sono presenti tutti i collezionabili che è possibile raccogliere in questo livello e sono tutti posizionati in ordine cronologico in modo che possiate raccogliere il tutto mano a mano che avanzate nel livello. Buon proseguimento! Siamo arrivati, direi. Forza! Di qua, vedo un altro vagone. Cerchiamo un modo per arrivarci. Forse trovare Tyr è la cosa migliore. Sembra che Odino non volesse farcelo trovare. Quando Tyr sarà libero e potrà tornare a essere il dio della guerra, Odino non avrà tempo di pensare a noi. Se è la sua guerra, forse lo farà. Una bomba! Bomba disinnescata, sì. Forse appartenente a Bari il Nano, costruttore della grande sala Lear. Quello era grosso. Stai allerta, potrebbero essercene altri. Pensi che sia stato il Drekia a uccidere il primo? In tal caso, è per quello che sono morti entrambi. Qua giù, vedo una miniera. Deve essere quella di cui parlava Durin. Binari, la sua a sinistra. Forse c'è un altro vagone. Padre, non credi che dovremmo schierarci con Tyr nella sua guerra contro Dino? La guerra non è l'unico modo. Siamo dei. Dei migliori. Alla fucina. Di qua, immagino. Alla fucina. Alla fucina. Alla fucina. Alla fucina. Alla fucina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.